Il ritorno alla normalità è ormai sempre più vicino. In Campania, una delle regioni simbolo della lotta al Covid-19, presa ad esempio in tutto il mondo sotto l'aspetto sanitario della prevenzione, da domani si potrà evitare di indossare le mascherine nei luoghi all'aperto. Rimane invece la raccomandazione di utilizzarla nei posti chiusi, per esempio sui mezzi pubblici, nei negozi, nei supermercati, nei locali pubblici tutti, compresi gli uffici, insomma nelle situazioni di assembramento e dove è più complicato mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. L'uso all'aperto della mascherina dunque non sarà più obbligatorio ma facoltativo. La disposizione regionale era attesa già da qualche giorno e l'ufficialità è giunta ieri sera col documento firmato dal governatore De Luca che di fatto porta i cittadini della Campania a entrare pienamente nella cosiddetta fase 3 della pandemia o meglio potremmo chiamarla fase 1 del post pandemia. Il provvedimento regionale richiama alla stretta osservanza del rispetto del divieto di assembramenti di portare sempre con sé comunque la mascherina perché potrebbe essere necessario utilizzarla se nei luoghi all'aperto da frequentare si dovesse verificare la presenza di più persone di quante previste e se dovesse venire meno soprattutto la possibilità del distanziamento di un metro. La regione ha anche raccomandato poi tutti i datori di lavoro pubblici e privati di adeguare le misure organizzative adottate in tema di smart working nelle precedenti fasi dell'emergenza all'attuale contesto così da consentire la modulazione delle attività in presenza dei dipendenti in coerenza con le esigenze della progressiva riapertura di uffici pubblici e privati con quelle dei cittadini. È stato sottolineato che andranno seguite tutte le disposizioni relative all'igienizzazione degli ambienti raccomandando sempre di lavarsi frequentemente le mani e di tenere atteggiamenti coerenti con questa nuova fase. Chi non rispetterà le disposizioni rischierà sempre di incappare in una sanzione amministrativa prevista che va dai 400 ai 1000 euro. Intanto in Campania anche ieri non c'è stato nessun nuovo caso di positività al covid-19 secondo i dati dell'unità di crisi della protezione civile regionale sono stati eseguiti circa 2000 tamponi. I positivi sono rimasti 4615 inalterato anche il numero dei deceduti nella nostra regione cioè 431.